20.000 20.000 km sono tanti, solo a dirlo, poi vedremo perché sono ancora di più nell'immaginario collettivo, 20.000 km in bicicletta, ho qui con me questa mattina, lo ringrazio di essere venuto, Valerio Fregnani, salve Fregnani, grazie di essere venuto, fra l'altro è sul piede di partenza, poi vi diremo perché, è un ciclista, è uno sportivo, è un coraggioso, un temerario, qualcuno potrebbe anche definirlo un incosciente sotto certi aspetti, fra virgolette, sposato, pazzo, viene da vecchiazzano e ha deciso, dopo un esperimento, un'esperienza precedente che poi vi racconterà, ha deciso di fare questi 20.000 chilometri in bicicletta con una mountain bike, da Forlì a Caponord, immaginate un po', e ritorno, quindi facendo una specie di circonnavigazione, partirà mi sembra il primo di giugno, vero? Primo giugno, sì, giovedì. Cominciamo subito, velocemente, come nasce? Quest'idea non nasce così, c'è stato un precedente, lo raccontiamo velocemente. Allora, il precedente è stato un quattro anni fa, quando io sono appassionato di bicicletta, non sono un ciclista professionista, anzi, un mio amico professionista mi definisce proprio un amatore di quelli che non sanno andare in bicicletta, perché ho dei ritmi sbagliati rispetto ai professionisti. Per cui, quattro anni fa, ho pensato di andare a trovare un mio ex comilitone a Puttignano, in provincia di Bari, e di andarci in bicicletta, e per una cosa mia, un'esperienza, ho deciso di impormi un budget molto limitato. Sì, questo è lo straordinario. In un euro al giorno, per vedere se era possibile sopravvivere con un euro al giorno, alla fine è stata dura, non è sempre facile, però sono riuscito a finire. Qualcuno poi l'aiuterà lungo il percorso, farà delle conoscenze. Le dirò, ci sono state tre o quattro serate, perché io dormivo sempre in tenda, chiaramente perché con un euro al giorno non avevo altre possibilità, e dormendo vicino a abitazioni o qualcuno, c'era qualcuno che diceva, ma hai mangiato, vuoi solo qui? Sì, posso immaginare. Però un tre o quattro sere è capitato, il resto cestisci a frutta, ho speso oculate, sottilette, cose un po' costose, miele che dà una buona energia. E infatti ci arrivavo, perché per fare questi sforzi, perché tali sono, ci vogliono energie, quindi ci deve essere anche una dieta, immagino particolare, che va seguita. La mattina la mia colazione era praticamente quasi sempre pane e miele, anche perché se l'avevo non è molto costoso. C'è da dire che non ho nessuno che mi corre dietro, quindi posso dosare gli sforzi nell'arco della giornata. Una media di chilometri quotidiani quanto? Parliamo sempre della precedente esperienza. I primi giorni sopra i 100 chilometri, gli ultimi giorni dai 60 ai 70, anche 50, perché cominciavo a perdere peso, ho perso 18 chili dalla partenza, quindi gli ultimi giorni anche montare, smontare la tenda era diventato pesante, forse anche moralmente, psicologicamente. Poi c'è l'incognita del tempo, meteorologica. Sì, a me non piace girare e pedalare sotto l'acqua, per cui quando piove mi fermo. Infatti il problema, ritornando al viaggio che devo affrontare adesso, sarà recuperare i giorni in cui sarà difficoltoso procedere. Quanto tempo ci è dato Fregnani per fare questi 20 mila chilometri? Quattro mesi, perché sennò diventano troppi chilometri da fare ogni giorno, con un ringraziamento particolare a mia moglie. Ecco, appunto, sarei arrivato lì, cioè voglio dire, sua moglie deve essere molto innamorata di lei, molto una brava… No, credo di sì. No, anche per il pensiero, perché insomma è un uomo che parte in bicicletta, che attraversa… Come dice, io ho bisogno ogni tanto di staccare, di fare queste cose un po' di fatica. Lei lo sa, abbiamo un bel rapporto, mi dice, non sono contentissima, però meglio saperti in giro e torni tranquillo che essere a casa e sai questa cosa che volevi fare, non sei… Lei lavora? Io sono collaboratore agricolo con mio padre, nell'azienda agricola, e poi faccio saltuari e consegno caffè, per cui mi sono portato avanti. Di pianificare? Sì, sì, ho pianificato, alleno una squadra di ragazzini di calcio, gestisco un campo… Non si fa molto niente. Sì, sì, cerco di occupare tutto il tempo libero che ho. Poi c'è anche un altro problema, mi viene in mente, c'è anche il problema della sicurezza, voglio dire, un uomo da solo, che viaggia, va per strada, che non conosce, che può avere programmato, pianificato, ma insomma, si va in giro per il mondo e ci possono essere anche delle brutte esperienze. Le è successo mai qualcosa? Ma allora, nel viaggio precedente sì, qualche inghippo l'ho avuto, tra l'altro ho scritto anche un libro, mi dispiace che ancora non è pronto, se no… Beh, ma facciamo sempre tempo, tanto quando torna deve tornare qui. Ok, allora quando torno le prometto che le porto il libro che ho scritto. C'è stata qualche esperienza con i cani selvatici nella tenda, che in Puglia ce ne sono. Sì, è vero, è vero, sì. Sì, poi sono successi anche fatti di cronaca, proprio cani. Sì, esatto, infatti qualche problema l'ho avuto, è di verità. Poi… È armato, lei non c'è niente in giro. No, a parte il mio coltellino svizzero. Il suo coltellino svizzero. Un accendino per fare un'eventuale torcia, che mi ero premunito, però non ce n'è stato bisogno, fortunatamente. Ma a livello umano no, a parte qualche incontro, diciamo, sgradevole così, ma niente di preoccupante. Dove arriva, lo aspettano, cioè c'è qualcuno che preannuncia questa, diciamo, questa sua partenza, questo suo viaggio, voglio dire, va in paesi diversi, ha avuto delle accoglienze, succede, non so, qualche sindaco, qualche… No, allora sta parlando del viaggio precedente. Ma no, adesso parliamo di quello nuovo, cioè ci può essere un… No, no, quello nuovo non ho nessuna conoscenza, è proprio una cosa che… Io sono stato già in Norvegia e tra l'altro sono stato tre mesi d'inverno, ho conosciuto diverse persone, però non è che mi aspettano… No, 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 ha capito cosa volevo dire? Non ho basi d'appoggio, ecco, ecco, questo… E non ho allertato nessun sindaco, se ne va, per conto suo, tranquillo, ecco, appunto. Senza troppa pubblicità. Facciamo l'itinerario subito, prima che ci venga a mancare il tempo, come è previsto. Allora, parto dal cancello di casa mia, giovedì, verso la prima mattinata, l'unica cosa, io non sono uno che programma proprio tutto quanto alla minima… Forse è meglio, perché a volte i programmi… Sì, anche perché i programmi di oggi non corrispondono mai ai fatti di domani, per cui l'unica cosa che ho programmato è la prima tappa, mi fermerò a San Piero in Bagno, presso il Lago Lungo, dove c'è un amico… Sì, sì, bello. Meko si chiama, che ha prontato un campo indiano lì, ed è stata l'ultima tappa che ho fatto del viaggio precedente, dove ho dormito lì da lui. Ah, quindi… E allora vorrei riniziare il senso inverso. Sì, sì, è anche ben augurante. Esatto, quindi la prima tappa sarà abbastanza soft, diciamo. Sì. Sotto Madrid faccio il cammino di Santiago in Portogallo. È molto tortuosa la Spagna, leggevo… Sì, è un po' tortuosa, quello che mi preoccupa di più non sono le salite che non mi danno fastidio, ma il caldo, quello lo soffro di più e quindi… Sì, perché va in conto proprio al caldo. Poi punterò verso la Danimarca, li traghetto per la Svezia, Norvegia, risalgo tutta la Norvegia fino a Caponord e poi discendo dalla Finlandia. Sempre che… Non succede niente. No, certo. Facendo lo stesso percorso delle ondata oppure anche variando. No, no, faccio un percorso diverso. Salgo dalla Norvegia e scendo dalla Finlandia a Estonia, Polonia, Germania. Diciamo che il ritorno è un po' più lineare dell'ondata. Se la fa proprio tutta, eh? Sì, attraverso un po' tutta l'Europa. A Caponord cosa c'è, freddo o caldo in questa stagione? Ma io sono stato due volte sui 16 gradi, sì, non è un freddo, a parte qualche giornata, se sarà brutto, sicuramente. Un po' di indumenti termici me li porterò. Gli indumenti termici ci vogliono. Il bagaglio, cosa mettiamo nel bagaglio? Intanto immagino che avrà… ecco, vedo che c'è anche un carrellino, no, dietro. Sì, ho un carrellino che è composto, è praticamente una ruota supplementare, agganciata alla ruota posteriore con due sostegni rigidi e due borsoni laterali in cui metto da una parte tutto il necessario per dormire. Tenda, sacco a pelo, stuoino e altre cose che servono. Dall'altra parte un po' di indumenti per una settimana, barra due, che dovrò lavare ogni tanto, fare un po' di bucato perché non è che posso portarmi i cambi per quattro mesi. Certo. Quindi cose tecniche, anche magliette, antivento, perché non posso portarmi cose troppo pesanti e ingombranti e quindi valuterò. E voglio dire, dal punto di vista dietetico, prende su qualcosa, sua moglie le preparerà qualcosa, a parte il miele. Guardi, nell'altro viaggio sì, ho preso il miele e un pane fatto in casa che è bello e sostanzioso. Che però dura poco. Beh, dipende, usandolo con parsimonia dura. Ma lei mangiava, cioè, lei avrà anche, diciamo, uno schema dei momenti in cui uno che fa degli sforzi di igiene ha la mattina a colazione, poi ogni tanto bisognerà anche la macchina. Ho anche dei sali, degli integratori che metterò nell'acqua, quindi già quelli aiutano. Per il discorso alimentare non ho schemi molto rigidi, dipende anche da quello che mi andrà in quel momento. C'è qualcosa di più di un euro questa volta. Sì, sì, no, questo in realtà mi preoccupa di meno proprio per questo, questo viaggio. L'altro ero costretto, tra virgolette, a relazionarmi con l'ambiente, con le persone che incontravo, perché con un euro a giorno. Qui non mi sono imposto dei budget di spesa, anche perché per fare tutti i chilometri ero a mangiare, carboidrati, quindi avrò bisogno di sostenermi. E ogni tanto posso anche concedermi il lusso, tra virgolette, di un campeggio o un costello. Un campeggio, certo, certo. Non dormirò sempre all'addiaccio in mezzo al bosco. Certo, poi l'altra volta, diciamola chiaramente, Fregnani, poi chi va a controllare se lei ha speso più di un euro o ha speso due euro? Sì, sì, ma infatti è una cosa mia, probabilmente qualcuno dirà, ma sì, questo se la racconta, dato che lo faccio per me non ha senso che lo faccia. No, volevo chiedere un'altra cosa, poi ritorniamo in merito, cioè lei si è sottoposto, voglio dire, anche dal punto di vista sanitario, medico, lei ha fatto degli esami, c'è qualcuno che lo ha controllato, che lo controlla, ha mai avuto problemi, voglio dire, una stanchezza improvvisa, il cuore, i polmoni, non lo so. Lei sembra robusta a vederlo così, non credo ci siano problemi. Allora, io c'è da dire che nonostante l'età gioco ancora a calcio, per cui ogni anno faccio la visita sotto sforzo, sono abbastanza controllato da quel punto di vista lì. E a livello di sforzi, come dicevo prima, non avendo dei termini di tempo, non avendo dei limiti, posso regolarci durante le giornate, ho il vantaggio, quando arriverò verso il nord, che avrò molte più ore di luce, praticamente ho 24 ore di luce, giusto, giusto. Quindi posso decidere nell'arco della giornata quando pedalare, quando fermarmi, se fermarmi due ore, più o meno. Questo ha anche più tranquillità, voglio dire, se la prende... Come le dicevo, mi preoccupa di meno, paradossalmente, questo, nonostante la quantità di chilometri, che sono enormemente più degli altri, 20.000 soltanto dell'altro, perché ho più libertà di movimento qui. Lei ha un cardio, usa un cardiofrequenziometro? No, non lo porterò, anche perché mi metterebbe più ansia quello... Ecco, probabilmente sì, probabilmente sì. Ma poi voglio dire, se lei, appunto, è lei che decide... Anche se comunque ho fatto un'assicurazione sanitaria, europea, quindi non è che parto... Beh, insomma, ha fatto le cose che doveva fare, sostanzialmente. E poi non affronterò rischi inutili, per cui se a un certo momento mi accorgerò di non farci o di avere problemi, nessuno mi vieta di prendere il primo treno e tornare indietro. Giustissimo. Deve andare tutto bene fuori e tutto bene anche a casa, perché... Certo, certo. Non si sa mai. Beh, a casa immagino che i contatti li terrà con il cellulare... Sì, sì, tutti i giorni, ma tra l'altro ho un programma che scarica tutti i giorni la trazza. Ah, ecco. Per cui, in tempo reale, attraverso il sito che è 20.000km.com, si potrà vedere giorno per giorno dove sono esattamente. Ecco, la seguiamo, 20.000km.com, vero? Sì, 20.000 in lettere, KM.com. Perfetto. Scaricherò anche delle foto, manderò qualche scritto e ci sarà un mio amico qua che... La seguiremo. ...aggiorna il sito. La seguiremo. L'altra cosa, il discorso delle strade alternative, cioè lei si è fatto sicuramente un tracciato, però lei mi ha detto io preferisco, cioè non farà le autostrade, insomma, tanto per essere chiari. No, ma neanche le superstrade. Ecco, ci sono delle strade alternative, delle vie alternative, che magari sono più lunghe, più tortuose, però... Sì, come le dico, la salita non mi spaventa, anzi, preferisco le strade piccole e... poco trafficate delle strade, anche perché ho avuto esperienze nel viaggio precedente. È un green pair, è un arrappicatore. Ma sa, il conforto di ogni ciclista è che dopo ogni salita c'è sempre la discesa. C'è sempre la discesa. Per cui si recupera. Anche nella vita, se vogliamo essere... Non sempre, non sempre, però... E oltretutto in questo viaggio, rispetto all'altro, che avevo proprio la cartina, che è il cartaceo, sfogliavo le mie pagine, qui sono un po' più tecnologico perché ho le mappe già sul telefono, ho un pannellino solare per ricaricare il telefono, nel caso avessi un po' di tempo in cui non riesco ad avere un appoggio, per cui posso consultare dove va a finire una strada, mentre nell'altro magari prendevo strada senza sapere se poi sbucavo esattamente dove volevo. Insomma, diciamo le cose come stanno. C'è, a Monte c'è un'organizzazione... Sì, è una preparazione non minuziosa come dovrebbe essere, ma un po' di preparazione sì, se no proprio allo sbaraglio così diventerebbe... E voglio dire, Vecchiazzano, Vecchiazzano lo sanno che lei va a fare questo viaggio? Sono avvertiti? Ma... E dopo l'accoglieranno pianofalmente. In realtà è uscito un articolo sul giornale che doveva uscire a fine maggio, poi mi hanno detto che avevamo spazio ed è uscito ugualmente. Non volevo che si sapesse così presto perché poi adesso mi stanno mettendo pressione tutti. Beh, ma adesso che si trasmissione la vedono parecchie. Soprattutto i miei genitori che sono già in ansia. Ecco, 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 immagino, immagino. Cosa le han detto? Cosa le dicono? Ma guardi, mia mamma è un po' in ansia, cerca di nascondere, sa che sono così, ormai si devono abituare. Mio babbo fa un po' finta di niente, l'unica cosa che ha detto in dialetto mi ha detto beh, andai niente, ma stavolta permette un po' esagerare. Mio babbo parla poco, ma stanza. Come è nata? Perché proprio Caponord? Perché amo il freddo e perché è il punto in teoria più lontano da noi, dove tanti anelano ad arrivare, Caponord è un po'... Sei leggendario, sei in cima all'Europa, diciamo così, più in su di lì, sulla terraferma, non si può arrivare. Che in realtà non è terraferma perché è su una piccola isoletta di Caponord. Sì, sì, infatti. Quindi un po' di traghetto bisogna fare. Dunque, lei compie 50 anni in agosto, però questo agosto che viene. E' anche per quello che ho scelto questo periodo, poi andando avanti, sarebbe stato più difficile per me e per la situazione a casa farlo. Quindi ho detto adesso mai più, così non avrò festeggiamenti per i 50 anni, spero di essere già Caponord per il mio compleanno. Probabilmente mia moglie mi raggiungerà perché in qualche tappa ci sentiremo, non staremo quattro mesi separati. No, no, certo, certo, questo mi sembra giusto e opportuno. Sì, anche lei se ha interessi, però via. Certo, certo. L'altra cosa, dunque, abbiamo parlato delle strade alternative. Anche qui c'è il problema che ci può essere, passa attraverso dei paesi, per carità tutti civilissimi, tutti democratici, del genere, però voglio dire, la sicurezza ci ha pensato, anche qui c'è il suo coltellino e basta. Non è che... A livello di aggressioni stiamo parlando... Sicurezza sua, cioè gli incontri... Il maggior pericolo in cui vado incontro secondo me è nel traffico, perché come abbiamo visto anche qui da noi, incidenti stradali, è proprio per quello che cerco di scegliere percorsi alternativi e poco trafficati, perché mi spaventa di meno la stradina isolata in mezzo al bosco della strada statale, dove passano camion, automobili e furgoni. Esatto, qui da noi, il motociclista e anche il ciclista... È certo. Abbiamo detto il tipo di bicicletta, è una bicicletta robusta, ha dei rapporti, vari rapporti immagino. È la più vecchia che ho, perché non è una nuova, ma questa, a parte che mi dà più senso di affidabilità, perché è un po' più pesante, quindi avrò più peso. Una mountain bike, no? No, sì, mountain bike, con le ruote, le gomme da strada e fuoristrada, se faccio anche qualche sterrato non ho problemi. Sì. E come ne dico, è quella più vecchia, più pesante, ma anche più semplice, quindi se avrò qualche rottura sarà più semplice trovare qualcuno per aggiustarla. Sì. Sicuramente dovrò cambiare le coperture, perché non credo tengano per 20.000 chilometri. Sono tanti. Sì, quindi qualche aggiustamento per strada dovrò farlo, quindi più semplice è e meno problematica avrò probabilmente a trovare dei pezzi di ricambio, se avessi bisogno. La notte, quando lei arriva, tanto deve dormire, no? Sì. Come si sente? Cosa pensa? Anche dopo sentiamo quando viaggia, mentre pedala. La notte, che tipo di pensieri le vengono in mente? Ammesso che lei abbia dei pensieri che non si addormenti, blocco, senza tanti problemi. Ma le dico la verità, quando si pedala più di 120-130 chilometri al giorno, tanti pensieri non ho tempo di averli, perché ci metto poco ad addormentarmi. Forse anche per questo che, voglio dire, va via, così dice adesso, per quattro mesi non pensa niente. La bicicletta è proprio un mezzo per eliminare i pensieri, perché la fatica supera i pensieri, quindi uno cerca di liberare la mente, pensa alla strada. Il pensiero ce l'ho semmai quando mi avvicino la sera, che devo cercare qualche posto opportuno per dormire, è valuto lì, è tranquillo. Cosa sceglie normalmente? Degli anfrade, dei posti un po' isolati? Possibilmente, se trovo dei campi con delle abitazioni vicine, scelgo quelli, chiedendo permesso ai proprietari, perché così non ho problemi. E con la lingua come la mettiamo? Con la lingua ho un inglese, un francese scolastico, con cui mi faccio capire abbastanza bene, un po' di spagnolo. Poi, come le dico, in Norvegia sono già stato e lì parlano anche loro un inglese scolastico molto comprensibile. I fiordi sono belli, vedo? Sono belli, però in bicicletta sono un po' meno belli, perché per arrivare a due chilometri di distanza a volte bisogna fare un percorso di dieci chilometri attorno, quindi lì sarà bello farlo, ma sarà lunga. Gliela dico in romagnolo, è pure sempre freddo o no? E freddo non dà fastidi. Ah no, lei ama il freddo. Amo il freddo, quindi peggio il caldo. Mi spaventa di più il caldo della Spagna, del freddo dell'anno mezzo. È il caldo della Spagna, sì. Infatti la Spagna, abbiamo detto che fa il giro, quali sono le città che toccherà? Sì, arriverò a Barcellona, poi taglierò sotto Madrid, evitando le città grandi, probabilmente eviterò anche Barcellona. Quindi il percorso che vedo è così? Sì. E poi risale dal portogallo, arrivo a Santiago, che è in cima alla Spagna, e faccio il cammino di Santiago che arriva ai confini con la Francia. Quindi le capitali che attraversa sono dunque Madrid, no, Barcellona, quali sono le capitali? Sì, le capitali non le attraverserò, ci passerò alla larga. Ma neanche un salto dentro, no? No, no, non credo proprio. L'unica, forse Oslo, magari Oslo entrerò perché è sulla strada, ma le altre cercherò di evitarle. Di evitarle, correttamente. Sì, di passare per le campagne, anche perché non ho motivo di visitarli. Certo, abbiamo tre minuti. Il vestiario, che tipo di vestiario? Cioè, avrà un impermeabile, avrà, come diceva prima? Come dicevo, cose tecniche, leggere, antivento, un keyway se per caso è umido, magliette leggere, ma di tela. Occhiali e berretto. Faccio anche altri sport, tipo parapendio, per cui ho degli indumenti che... Ah, ma allora il suo è un bici. Sì, amo free climbing, amo gli sport cosiddetti estremi, ma che non sono più estremi di tante altre cose pericolose che si fanno. Se fatti nella dovuta maniera sono più sicuri di altri, garantisco. Adesso, io le credo sulla parola, però... Le farò un riposto così se ne rende conto. Senta. Che è più facile volare che girare in macchina. No, 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 questo poi è stato anche documentato. C'è una documentazione. È che quando uno precipita fa più notizia di un incidente stradale. Però sappiamo che l'incidenza degli incidenti automobilisti è enormemente, anche del treno, è enormemente superiore a quella degli aerei. Ultimamente è ancora di più. È ancora di più. Dicevo, quindi, occhiali, visiera... C'è occhiali, casco... Ma non cose eccessivamente tecniche, come le dico, non sono un ciclista professionista. Ha un po' d'ansia, mi dica di sì, perché deve fare questa partenza. Se vuole dico di sì. No, mi dica no, mi dica quello che è. No, come le ripeto, mi preoccupava di più il viaggio precedente, perché qui ho più libertà di movimento, ho più possibilità, non ho... I chilometri sono tanti, basta non pensare a tutti. Beh, vabbè, però l'importante li può gestire poi in maniera più tranquilla. Poi, come le dico, fra due mesi vedrò a che punto sono. Se vedo che sono indietro rispetto a metà... Eh, ha già cominciato a fare un po' di dieta, di attenzione, no. Ha perduto 15 kg l'altra volta. Sì, 16 kg. E qui quanti ne perderà? Credo di meno, perché qui mangerò. Contrariamente all'altra volta in cui avevo dei limiti, qui quando ho fame mangio, anzi, un po' di carboidrati dovrò assumerli, un po' di carne, quindi... Qualche pasta asciutta, una bella bistecca... Sì, penso di perderne meno. Qualcuno li perderò sicuramente, ma meno dell'altra volta. Qualcosa sicuramente. L'ultima domanda, velocemente. Dunque, dopo... Questa è la prima, siamo andati giù in Puglia. La seconda andiamo a Caponord, la terza dove andiamo? Ah, la terza vediamo. Ah, che ci hai già pensato. No, no, le assicuro che non ho pensato al futuro e è ora di cominciare a pensare di fermarsi un po'. C'è da fare però tutta l'Asia, eh? No, non mi attira tanto. Però ci penso, quando torno, un po' di anni, devo stare fermo. Poi magari ci ripensiamo. Ok, io la prendo già in parola, quando torna, viene qui e ci viene a raccontare. Va bene, d'accordo. Le auguro bocca al lupo, un bel viaggio per la sua avventura, veramente molti in gamba e poi quando ritorna ne riparleremo e vi racconteremo. Aggiungo una cosa, io questa cosa la faccio per me, però dato che ho avuto una collaborazione con l'Isla, che è un onlus che tratta dei problemi della SLA. Sì, diciamo l'acronimo, tanto perché capiscono benissimo, è l'Isla, 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 l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amniotrofica. Esatto, quindi chi vuole partecipare, io ho già diverse ditte che mi fanno da sponsor. Con dei centesimi, eccetera, eccetera. Esatto, e chi vuole partecipare, attraverso il sito è possibile fare una donazione. Che lo ripetiamo, Fregnani? 20.000 in lettere km.com .com, ecco, mi raccomando. Le donazioni andranno appunto a questa associazione che fa un gran bene, io ho avuto anche amici, genitori di amici che hanno avuto problemi con l'Isla, quindi sono abbastanza legato anche a questa volta. Ancora in bocca al lupo, buon viaggio e ci risentiamo quando torna. Grazie e arrivederci a settembre, anzi a ottobre perché presumo che mi servirà anche tutto a settembre. Grazie a voi per l'attenzione, grazie a Valerio Fregnani e noi ci risentiamo. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.